ma ciao ciao a tutti allora oggi faccio un video siccome nel senso già un po che non lo faccio ma non è proprio programmato per niente come le mie cose ma siccome siamo in questo periodo che si esce al mattino mia madre con la con l'acqua tira tira l'acqua mia madre mentre io faccio un video signore ma ciao ciao a tutti allora oggi faccio un video non come sempre non è programmato niente a propria la michelina allora siccome siamo nel periodo autunale in realtà è vero ma è un po come se fosse estate no quindi al mattino serve magari un golfino poi al pomeriggio praticamente vai nuda perché c'è ancora caldo poi alla sera serve ancora il golfino poi alla notte proprio serve qualcosina di più tipo un felpino qualcosa del genere insomma bisognerebbe andare in giro con l'armadio perché ci sono un po di temperature contrastanti però va benissimo così io vorrei proprio che continuasse e va bene allora io ho detto ma come ci si veste questo dannato periodo allora io vi faccio vedere come sono uscita di casa io perché ragazzi allora premettiamo il fatto che io non è che esco salvo imprevisti vari al mattino presto però comunque ho le cose dietro quindi all'occorrenza me le infilo me le tolgo me le infilo me le tolgo me le tolgo me le infilo me le tolgo perché si bisogna vestirsi così allora quante volte ho già detto allora bene allora il mio outfit di oggi è questo vestitino con diciamo non è proprio una mezza manica è leggermente un po più piccola comunque va bene diciamo che è una mezza manica comunque fino a ieri avevo addirittura la canotta quindi a seconda canotta o mezza manichina proprio piccolina e questo vestitino che io non so come farvelo vedere perché prendiamo il telefono in mano vediamo un po ecco da quello specchio lì se l'ho riuscita a vedere allora questo vestitino così semplicissimo bianco quindi corto ok poi sotto io il costume non indosso le mutande perché sono andata al mare perché vado al mare però comunque in caso una mutanda va fin troppo bene e questo è un vestitino corto così poi ho le e adesso le ciabatte ma poi vi faccio vedere comunque le scarpe da ginnastica i calzettoni che all'occorrenza al giorno li tiro giù alla sera me li tiro anche su perché sono diciamo quelli un po lunghi e me li posso anche tirare su se ho freddo al polpaccio si chiama polpaccio va bene ok quindi calzini per forza in questa stagione e poi adesso vi faccio vedere ok quando uscirò sarà un po più freschino il sole va via sempre prima anzi il tramonto questa sera ci sarà le 7 meno un minuto almeno quale vanto e ogni sera va un pochettino sempre prima nel senso via il sole quindi insomma quando va via il sole bisogna coprirsi quindi io questo vestitino qua sopra da infilare però non so se infilare prima questa perché in realtà ho due cose ho portato che non ci azzeccano niente se le vedesse mia madre mi dice dove vado ma secondo me prima c'era questo lungo quindi aspettate che me lo metto e poi vi faccio vedere allora questo qui o questo qui aspettate che ha le tasche che sembra che ok questo qui in grigio con gli orseti che io lo adoro che ha la manichina in realtà un po' a tre quarti vedete comunque insomma questo qua che copre e quindi per per diciamo per fare aperitivo per come prima cosa per coprirmi un po' e secondo me andava bene tra l'altro spunta anche leggermente quello sotto ma non dà fastidio no cioè nel senso uno sembra che se lo sia preso proprio in questo momento no eh cosa dite eh furba la cosa eh eh poi come ultima cosa perché io sapevo che comunque questa sera non sarei rientrata tardi quindi diciamo che insomma per le otto e mezza sono a casa mettete proprio massimo nove ma sicuramente no ecco come ultima cosa invece di portarmi una felpona un po' più pesante se magari avessi ritardato ho preso questo qua di Snoopy che mi piaceva un sacco eh da metterci sopra che comunque eh eh copre ancora ancora di più no per arrivare a casa no ora magari tutti non andrebbero vestiti così no ma io sapete che cioè a me piace un sacco no un outfit del genere adesso giro eh ecco insomma qui abbiamo il cartoon di Snoopy e poi ci abbiamo gli orsetti che spuntano che sembra così a livello una gonellina perché la manichina non si vede più vedete e poi sotto ma sembra proprio fatto tutto apposta avete capito no ma mi piace un sacco a me cioè proprio proprio sì adesso guardo un po' se vi faccio vedere meglio in un altro specchio oh vedete allora vedete che sembra proprio che eh quindi io fino alle nove diciamo di questa sera potrei andare benissimo così perché eh dopo le nove eh servirà un qualcosa di più no o un giubbino di jeans una camicia magari un po' pesante anche magari media lunga cioè avete capito serve qualcosa di più perché se no poi si gela però così va bene ora vi faccio vedere perché qua sono a casa ho messo le ciabatte vi faccio vedere l'outfit finito vado nella scala un attimo con le scarpe da ginnastica così vi faccio vedere tutto il mio outfit ecco tolgo le ciabatte indosso le mie scarpe che sono queste qui della fila e quindi il mio outfit è concluso quindi il mio outfit è concluso ora mi tolgo tutto perché fa ancora caldo siccome sono le 5 e 20 qua c'è la signora Rita che poi ve la faccio conoscere ve la faccio conoscere ve la faccio salutare e quindi niente io volevo solo farvi vedere come mi sono vestita oggi fatemi sapere voi cosa indossate di tra virgolette di furbo no in questi periodi un po' di transizione e niente l'amichi color fan vi saluta va bacia e ci vediamo al prossimo video la Rita non vuole farvi saluto è antipatica è antipatica la signora Rita ma vedrò di farvela salutare intanto vi saluto io tramonto è già andato gente che fa ancora il bagno ecco bruto ecco sono uscita mi sono appunto infilata il vestitino con gli orsetti e adesso sto ancora bene così poi se mi fermerò ancora qui a passeggiare o prenderò un aperitivo qualcosa mi metterò la magliettina di comunque per il momento diciamo che il mio outfit è perfetto giù giù Dovebru? Buro brì? Ciao!